Anche per la 145esima edizione della Giostra del Saracino, in programma sabato 22 giugno alle 20.30, la vendita dei biglietti, come è avvenuto per le ultime edizioni, sarà gestita in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour in prima istanza attraverso il Click Giostra Day, che permetterà di prenotare online la possibilità di acquisto dei biglietti e ritirare i tagliani presso la biglietteria del percorso espositivo I colori della giostra in Piazza della Libertà. Il form di registrazione e prenotazione sarà attivato giovedì 13 giugno dalle 15 alle 18 fino ad esaurimento. Ogni utente potrà richiedere un massimo di 4 biglietti, non saranno ammesse deleghe per l'acquisto dei biglietti. Verrà generato un elenco di 130 utenti, di cui 100 riceveranno entro venerdì 14 giugno alle ore 12 l'indirizzo di posta elettronica fornito, un email con indicata la fascia oraria di presentazione al botteghino. Altri 30 invece saranno considerati riserve. Le convocazioni saranno fissate poi per la giornata di sabato 15 giugno dalle 9 alle 19. Una volta conclusa la vendita su prelazione, dalle ore 9 di lunedì 17 giugno sarà attivata la vendita libera presso la biglietteria del percorso espositivo I colori della giostra, sia per la giostra del Saracino di sabato 22 che per la prova generale di giovedì 20 giugno. Anche in questo caso si potranno acquistare massimo 4 biglietti a testa per ciascun evento. Sempre da lunedì 17 giugno dalle ore 15 sarà aperta anche la vendita online attraverso la quale sarà possibile acquistare i biglietti del settore in piedi sia per la giostra che per la prova generale.